Grazie Presidente, Signor Ministro. Risultano particolarmente gravi e inaccettabili le dichiarazioni rilasciate il 12 febbraio dal Senatore Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. Il Senatore Berlusconi, in riferimento all'incontro tra il Presidente Meloni e il Presidente Zelensky, ha dichiarato che se fosse stato lui il Premier non lo avrebbe incontrato. Il Senatore Berlusconi ha poi tentato di riscrivere la reale dinamica degli eventi, imputando all'Ucraina la responsabilità del conflitto in atto. Queste sono dichiarazioni di evidente rottura della posizione tenuta dal Governo sul conflitto russo-ucraino ed esprimono, come già avvenuto più volte, posizioni contro l'Ucraina e contro gli ucraini. La domanda è dunque inevitabile, Ministro Tajani. Ministro Tajani, come ritiene di poter conciliare i ruoli di Ministro degli Affari Esteri e di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri di questo Governo con le posizioni ormai consolidate in politica estera espresse a più riprese dal leader del suo partito politico che in merito al conflitto russo-ucraino, sono in aperto e totale conflitto di vedute con l'indirizzo politico del Governo di cui fa parte. Grazie. Grazie a lei. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha facoltà di rispondere. La parola, Ministro. Grazie, Signor Presidente. La posizione del Governo e di tutta la maggioranza è sempre stata chiara. Siamo dalla parte dell'Ucraina, dalla parte dell'Europa, dalla parte della Nato, dalla parte dell'Occidente. Questo significa tutelare l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Difendere i principi alla base dell'ordine internazionale, perseguire i crimini commessi, creare le condizioni per una pace giusta, che solo può scaturire dalla difesa, non certo dall'annientamento della parte aggredita. Contano i fatti e i voti che abbiamo dato. Forza Italia non ha mai avuto esitazioni nel sostenere Kiev con finanziamenti ed armi. Ha sempre votato con gli alleati di Governo e in linea con il programma di tutta la coalizione. Lo ha fatto fin dalla passata legislatura. Il primo marzo del 22, nelle due Camere abbiamo approvato le prime risoluzioni che impegnavano il Governo ad assistere l'Ucraina sotto tutti gli aspetti, inclusa la cessione di apparati militari. Orientamento confermato con le successive risoluzioni, quelle del giugno 2022 in vista del Consiglio europeo e nell'attuale legislatura quelle del 30 novembre e del 13 dicembre scorsi, che hanno consentito di prorogare alla fine di quest'anno la cessione di armi alle autorità ucraine. Una coerenza che non tutte le forze politiche hanno dimostrato. La stessa posizione abbiamo espressa in Europa, a cominciare dalla durissima risoluzione del primo marzo del 2022, votata anche dal Presidente Berlusconi, per condannare l'aggressione russa illegale, non provocata e ingiustificata. Forza Italia ha votato al Parlamento europeo anche le risoluzioni successive, quelle del 6 ottobre 2022 e del 2 febbraio 2023. L'Italia è in prima linea nella confisca di beni e fondi russi e ha sostenuto progressive sanzioni contro la Russia. È in preparazione il decimo pacchetto. Al Consiglio europeo straordinario il Presidente Meloni, forte di una maggioranza compatta, ha confermato l'impegno a tutto tondo per Kiev. Non solo armi, abbiamo fornito assistenza umanitaria, colti profughi, inviato generatori e altri materiali. Lavoriamo per rafforzamento dell'accordo sul grano e per creare una zona di protezione attorno alla centrale di Zaporizia. Collaborazioni mirate ma che auspichiamo portino russi e ucraini a sedersi presto a un tavolo sotto legge delle Nazioni Unite. Tutti cerchiamo la pace. Il Presidente Berlusconi è un uomo di pace. Il suo è un messaggio per dire riflettiamo a come si possa raggiungere la pace, ad esempio attraverso un piano per la ricostruzione. La strada non è chiaramente tracciata. Ciò che è chiaro è che la sconfitta dell'Ucraina non è quella giusta. Nel sostenere con fermezza Kiev il coraggio del suo popolo difendiamo i nostri valori, la prospettiva della pace e della ricostruzione. E concludo, il messaggio che continuiamo a dare ai russi è che la guerra non è una soluzione. La linea di fermezza, difesa della libertà e del diritto internazionale non può affievolirsi, così come lo sforzo diplomatico. ribadirò questa nostra posizione nei prossimi impegni internazionali, dalla conferenza sulla sicurezza di Monaco alla sessione speciale di emergenza dell'Assemblea Generale dell'ONU sull'Ucraina. Questo è e resta l'impegno del Governo. Ringrazio il Ministro Tajani. Ha facoltà di replicare il deputato Lomuti. Prego, ha lei la parola. Grazie Presidente. Signor Ministro, non ci riteniamo minimamente soddisfatti dalla sua risposta perché lei non ha fatto altro che, come si dice, buttare il pallone in tribuna. Nonostante la sua retorica, la sua risposta non sgombra il campo dal gigantesco problema politico che questa vicenda ha evidenziato. È un problema molto serio per questa maggioranza di Governo. Mi fa piacere che le sorride, Ministro. Perché se il leader del suo partito non è in linea con la politica estera di questo Governo, ne consegue che Forza Italia non è più nella posizione di esprimere il Ministro degli Esteri di questo esecutivo, a meno che Forza Italia non voglia sconfessare il suo leader, ma questo a quanto pare non è successo. Eccoli qua. La compattezza e la coerenza sono le virtù più forti, come avete detto sempre a più riprese, di questo Governo. Allora questa distanza incolmabile tra voi di Forza Italia e il Governo non può essere più ignorata e quindi, Ministro, si dovrebbe procedere a un rimpasto di questo Governo. Colleghi, fate parlare il deputato Lomuti in silenzio, per favore. Altrimenti, e concludo, signor Ministro, ma mi riferisco anche agli onorevoli colleghi, la credibilità dell'Italia all'estero, già compromessa, subirà il definitivo colpo di grazia. Grazie a tutti.